Nella domenica dell'Aospicato Rilancio il Castrovillari incappa invece nella prima sconfitta interna di questo campionato. 3-1 per il Gela alla fine di 94 minuti dove il Castrovillari, seppur rimaneggiato, gioco alla sua miglior partita di stagione tra le mura amiche. Ma andiamo alla cronaca della partita. Castrovillari pericoloso al quindicesimo del primo tempo. D'Angelo lancia lungo per Coris che di testa serve l'upacchio. Immediato l'assist per Gaetani che a tu per tu con Saitta non riesce a metterla dentro. Al ventiduesimo ancora Castrovillari sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Gaetani che in acrobazia batte a rete. Ci mette una pezza gambuzza. Al trentesimo l'episodio che decide il proseguo della partita. Gaetani ruba palla sulla tre quarti scarico per Coris che lancia in aria l'upacchio. Il bomber aggancia di destro e Saitta frana sul rossonero. Calcio di rigore sacrosanto per tutti tranne che per il signor Lombardelli di Torino. Al trentaseiesimo prima azione del Gela. Chidichimo dalla tre quarti crossa in mezzo per Nassi che di testa mira l'incrocio dei pali. Vola voce e con la mano destra si salva in angolo. Al trentottesimo il Gela passa. Calcio d'angolo dalla sinistra. Svetta di testa Bonaffini. Niente da fare per voce. Autentica doccia fredda per i rossoneri che fino a quel momento avrebbero assolutamente meritato il vantaggio. Al trentanovesimo Gaetani, il migliore dei rossoneri, esce per infortunio. Al suo posto entra Scaglione. Al quarantunesimo c'è il raddoppio dei siciliani. Buonanno riceve palla dalle retrovie sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare. Dal limite dell'aria lascia partire un sinistro per niente irresistibile che batte voce che in questa occasione manifesta l'unica sua sbavatura in tutta la partita. Si chiude così il primo tempo con il Castrovillari incredibilmente sotto di due gol. Nella ripresa i rossoneri hanno una buona occasione già al secondo minuto su calcio di punizione dal limite per atterramento di Lupacchio. Coris prova la battuta a rete ma la palla finisce alta sulla traversa. Al sedicesimo cala il 3 Silgela con Evola su calcio di punizione. Il fantasista siciliano disegna una traiettoria di rara precisione che si inzacca all'incrocio dei pali. Niente da fare per l'incolpevole voce. Malgrado il passivo il Castrovillari prova a reagire. Al diciottesimo Coris di testa impegna Saitta. Al quarantatresimo ancora Castrovillari. Coris di tacco libera in aria Lupacchio. Perentorio il tiro del bomber rossonero. Gran risposta di Saitta. In Piero Recupero al quarantottesimo Lupacchio firma con la collaborazione di Gambuzza che ne devia il tiro il gol della bandiera. E' ancora rimandata la prima vittoria in questo campionato per i rossoneri. In compenso Mister Viola e i suoi vincono l'affetto dei tifosi.